eccoci amici ancora una volta da malo macchine a malo in provincia di vicenza sempre qualcosa di interessante oggi abbiamo il mini transporter mac 55 da 5 quintali e questa che vedete una trincia ghidini da montare su mini escavatori che abbiamo appena caricato ma parliamo anche del mini transporter versione damper motore onda con pala autocaricante vari accessori disponibili come per esempio il cassone il cassone per legna ed è adatta a tutti ma proprio tutti i lavori agricoli con la possibilità di avere anche la pedana per l'operatore è pratica versatile e di facile uso totalmente fabbricata in italia a partire da 3.000 euro venite con fiducia malo macchine a malo in provincia di vicenza a vedere questo mini transporter mac 55 da 5 quintali a disposizione in pronta consegno